Si chiama Evergreen Marine Corp, è una società di Taiwan, quindi in Giappone, la quale pensate che va a premiare i dipendenti, i propri dipendenti con un super bonus, ossia 50 mesi di stipendio in più nella propria busta paga. L'azienda è una diziana internazionale di trasporti che ha voluto premiare letteralmente i lavoratori, però soltanto quelli che vengono ad essere assunti a Taipei e che non sono residenti a Shanghai, in Cina. La quantità di dinero ricevuta in base, pari ovviamente in base a quello che è il ruolo di ciascun dipendente, però è una dizia importante questa che va in qualche modo a generare nuove speranze e nuova fiducia in chi ha a che fare con l'ambito proprio di questa azienda, Evergreen Marine. È un risultato importante, un risultato eccelso, azzardo a dire, di bellezza e di magnetismo incredibile che ha delle incredibili ripete che porta in qualche modo l'azienda in commissione a essere egemone nell'ambito della generosità. Sono 50 mesi di stipendio che corrispondono a ben 4 anni di mensilità, componenti dunque a Evergreen Marine Corp di Taiwan, il video termina qua. Prendiamo ad esempio anche noi italiani, ma chiamiamola su scelta come questa.